Salve ragazzi, io sono Castoro e io sono Combrosione. Siamo ritornati su Nio. Anzi, nell'ultimo episodio abbiamo battuto un boss della seconda missione principale, non abbiamo la leva e praticamente quel boss era un Rajang che ha fatto la fusione con un Raikou. Che cazzo è quel coso? Non ho idea, qualcosa mi hai visto. Eh, l'arcire. Secondo me questo è un po' Sarai stronzo come la merda. Perfetto. Io prendo tutto anche se... C'è l'obiettivo, rompi tutte le armature. Rompiamo roba a caso. Ah, ma l'armatura l'ha chiesto, è lassata di birra. Sono sicuro 100-100 che uno di questi si alza e ti mette una di quelle spade su per il culo. Comunque c'è una trappola. Sicuramente. Vedi, secondo me da qualche parte c'è tipo una pressure plate o una cosa in genere. Qua vedi. Eh. Secondo me se quel coso stava alzato la potevi usare là. Grazie. Se magari non sei coglione. Sei più curto della merda. Eh, ma quello è a terra. Madonna, non si blocca. Eh, vedi l'armatura comunque. Eh, l'armatura comunque fa il suo lavoro. Ciao. Mi serve una torcia qua su. No, non si vede. Si spezza la parte. Sì. Il castoro che si suicida. La mia spada bella bella. Che cazzo è questo rumore? Oh. Un porco. Ciccio bello. What do you want? Un codama. Ah, succede qualcosa. Ecco. Poi mi ha funcione. Si è nascosto. Oh. Esci. Esci fuori dai. Caga sotto. Ha fatto le pollicine quando uscì. Sbrodoli. 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 Sembravano dei ciccio belli ma verdi. Sbrodoli. Sbrodoli. Sei un codama. Quello si alza. Eh, si vede il colore diverso. Dai. Mettetelo in un colore. È lingo con la spada intera poi. Sarai strunzo come la merda. Tata. Mamma mia. Più come match questa terra deve morire. No. Perché? Io sono tuo amico. Che poi tra l'altro. Che è il diligno che l'hai fatto? Vabbè, a parte. Non mi viene ancora spiegato perché stiamo facendo tutto ciò. Cioè questo è arrivato in Giappone. Poteva benissimo sbattersi nel cazzo. Ehm. Però invece sta facendo. Sta aiutando Anzo. Ehm. Perché è un buon samaritano. È l'eroe di turma. Ehm. Perché non potevi essere Anzo che almeno c'è il secco di più con la storia. Perché. Lui. È quello che ha il potere che vede i guardiani. Che vede le anime. Ehm. 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 Vabbè. Vabbè però. Vabbè però. Sei un produzione ricchione. Ah no. Non ci dichiarmi che un gioco bello è bellissimo. Ehm. Fanboy. Ehm. Ehm. Non si fa fanboy? Ehm. 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 Doom. Perché sei tu. 起來ondo duuuntro. Ehm. Ehm. È un segreto. Che fatto. Ma cosa sei? Ehm. nanana non è morto con una testa di cazzo cazzo era ho preso il potere del fuoco cosa uccidendo una figata è però dura poco e pure l'elettricità pulisce con un certo lino non farlo fuori con lo schioppo aspetta proviamo il giro ok ragazzi ricordiamoci che schiavo il schioppo e la lucertola di dax la copia è molto più brutta che assomiglia che loro che loro vedi qua non so cos'è un che loro ma ti chiamo che loro ma non hai visto un cazzo di che loro è morto subito ehi la madone lancia dell'ufficiale questo buono secondo me attento qua c'è una trappola no idea di dove stiamo andando non lo so nemmeno io è tutto uguale sto posto si capisce un cazzo ciao piccolo uh godama villata ahahahah perché sono gay l'hai detto tutto eh ahhh qua stiamo sopra se ti visto cosa secondo me apre tutte quelle porte schermati gli occhi dal su che cosa ecco adesso si possono aprire molte probabilmente si spera che cazzo era stavolta ecco la un'esco ma ce ne sa ce n'era un sacco sarà sempre qualche segretino così qualche cazzo ti è infatti un cazzo s pronso come la merda no sembra che lo colpisci perfetto cazzo fatto non lo so ok arco lungo cosa c'è madonna medicina per piedra nell'anima questa è quella da 5 mila poi bandera delle vocature finta dell'anima no mi sembra che era quella da 5.000 da 20 milano di ragazza quella era pietra normale o qui c'è il muro 30 in 18 non so cosa significa sicuramente la citazione a qualcosa ma non mi viene nulla in mente e qui c'è il muro con gli occhi c'è un muro segreto e dai vaffanculo ok ragazzi ci diamo il muro cattivo no eh deve attaccarlo di nuovo se sei cattivo col cattivo oh cazzo questo è un casino di lancara mi è uscito quello che ho detto lezzo lezzo non finirà mai ma si fa un cazzo ah ok ma si oh merda quella fa male si eh si e minaccia cristoforo colombo se sei stronzo quello potente fa male proprio quasi è sciammato tutto cosa ci sarà qua tirron qualsiasi parte sembra che già ci siamo state tutto uguale una fonte la per la rigenerazione e che cazzo mi serve prima del boss perché la sicuro c'è un posto vabbè con il bambolotro del libro sì cosa mi sono compenetrato che mi sei messo un muro scuro vabbè a una volta scusa eh sì però se fai al santuario diciamo è di nuovo la puoi fare di nuovo posso non ancora eh santuario oh no questa è quella di prima cazzo vuoi troia angino perché angino è il mio compito accompagnarti per questo è il problema di tachipana non ti rallentro porto con me la cerebro spada raikiri la taglia fulmini se vuoi sbaglio è tipo una spada l'ingegneria giapponese si questa dopo ce la dà perché all'inizio nella missione c'era scritto che vedete cosa che fanno ah ok ah questi vedi c'è mio quattro poi a fine missione ci dà la sua spada sicuro al 100% eh sì è qui il boss ma quanto è il boss questo cos'è? è un metroma Vigorsol Vigorsol? sì ho detto Vigorsol sono come le Vigorsol guarda qui in questo posto come diventa un concurrente della sua sicurezza cazzo gli ha detto mula sa gioia non ci viste se sei stato davvero preoccupato per suo padre zitto catto di merda ci sarai il boss? eh sì ma il mio ilmo eh sì eh sì ovviamente la fine missione però l'hai preso dagli altri sì sembra che stia morendo e gli dai la mano dagli la pizza che cazzo che cazzo è successo svelati che cazzo è non lo so non lo so ah è ah chi cazzo ah è quello bastardo che ci ha ucciso diciamo no ci ha rubato il guardiano eh vabbè a parte è quello che ci ha matato giù dalla torre mio signore ah ecco ah non hai mai l'idea di quei eh come sei diciamo dovrebbe essere tipo il par perchè l'ha chiamata principessa a lei le texture che non caricano vabbè vaffanculo pezzo di merda ma questo ti apre il culo sarai stronzo cioè è troppo figo per non aprirti in quattro taci bada taci bada mueshige guarda quanta stamina rompe questo eh volevi strusso vabbè è un scontro normale è un merdone si trasforma oh oddio si è baffato si è baffato si è baffato questo si trasforma 100-100 eh no si se lo dico io tra figli eh 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 che combo oh merda cosa hai evocato il cordiano penso non è il nostro era un cane una chicca vabbè oh merda oh merda oh no se lo colpisci magari mi ha ucciso con la combo madonna che ingrabbo torniamo qui madonna cara le combo fanno male oh merda oh cazzo quello era una presa cosa ti ricordava oh cazzo eh che ti stava per prendere i coglioni oh che cazzo è successo che cazzo è successo no vai fa culo piccolo oh è un cagnolino è bellissimo vedete che ti smusa vabbè a parte però è bellissimo addio ah non è nato ancora perchè non posso usare il guardiano non lo so si salvo con lo schiopo oh mio dio 3.000 di danno e la missione fighisce così si avevi detto che no ma che cazzo è quel cosa da dire sembra la culla del caos sembra la culla del caos abbiamo detto si ah 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 tagliare la culla oh ah ma è la chita bello se l'ha rubato il suo guardiano ah bello eeeh 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 che cazzo è questo e il suo speed guardiano no l'ha rubato anche quello secondo me era il nostro ah eh ecco sto figlio di troia sto figlio di troia eeeh un'altra pena persa cazzo ci devi fare con ste p non mi fai rispondere che credo è meglio alle rabe e l'occhio fa eeeh vedete morte forma con cerchio no davvero no lo spirito guardiano sembra importante per te ooo eeeh e che sia spada re kiri vuole essere impugnata da te oh un'altra chita c'ho lei perchè rosa è il suo fa schifo rosa si ma rosa fa schifo ok ragazzi per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo episodio ciao